non puoi perdere concentrazione, se perdi concentrazione è finita a 6 milioni di 6 milioni di 300 mila di 6 milioni 300 mila tentativi di cui solo 233 hanno finito di quei 6 milioni 300 mila tentativi 100 mila tentativi sono miei un po' di più A presto! ahahah a entrare Aspettate Volete sapere quanti ore ci abbiamo impiegato? Ve lo dico io Cazzo se lo dico io Ci abbiamo messo Ma non ha neanche più la voce Ma non ha neanche più la voce Ce l'abbiamo messo 14 ore 14 ore e mezza 14 ore e mezza 14 ore e mezza ragazzi Abbiamo finito Buonanotte Buonanotte 14 ore e mezza Buonanotte Buonanotte